Buongiorno a tutti, sono Igor Francesco Luceri, psicologo e psicoterapeuta della Gestalt. Bene, con il video di oggi si conclude questa rassegna e quindi utilizzo questo spazio per fare dei ringraziamenti e dei saluti. Intanto spero di essere stato utile e di aver dato delle suggestioni, dei suggerimenti, di aver condiviso delle riflessioni utili per voi che le avete ascoltate. E colgo l'occasione per ringraziarvi tutti quanti per aver guardato i miei video, aver commentato, aver interagito con me a distanza. Grazie per l'attenzione e per il coinvolgimento. Grazie anche a tutti gli altri cittadini di Casalborgone che come me hanno dedicato del tempo e delle energie nel creare dei video da divulgare. che dal mio punto di vista hanno contribuito, abbiamo contribuito a far sentire presente il paese, a far sentire che c'è questa comunità. E proprio su questo punto un ultimo ringraziamento va all'amministrazione di Casalborgone che attraverso questa iniziativa e grazie anche all'incontro pubblico che c'è stato la settimana scorsa trovo che siano appunto delle iniziative che alimentano molto il senso di comunità e in questo momento abbiamo bisogno di sapere che c'è una comunità a cui possiamo appoggiarci. È un momento difficile anche se l'emergenza in senso stretto è passata adesso la strada non è ancora in discesa perché c'è una ripartenza, una lenta ripartenza ma dobbiamo adesso anche prenderci cura dei danni che sono stati causati da questi mesi di inattività. Quindi adesso più che mai è importante sentire di poter fare parte di una comunità, di una comunità attiva, attenta ad ognuno e credo che in questo modo, in questo momento tutti quanti lo stiamo dimostrando questo. Quindi grazie a tutti quanti e con la speranza di rivederci a questo punto magari dal vivo con altre iniziative. Buon proseguimento.